In questo video parleremo dell'allegato D della scuola primaria, come compilarlo, cioè la dichiarazione dell'anzianità del servizio prestato da un docente titolare nella scuola primaria che voglia fare trasferimento o nella scuola primaria o passaggio di ruolo verso la secondaria o verso l'infanzia. Come prima cosa va a compilare questa prima tabella, che sarebbero tutti gli anni di servizio successivamente alla nomina e ruolo. Tutto il servizio che ha fatto di ruolo nella primaria va inserito con dichiarazione rigo per rigo dell'anno scolastico dal AL e la scuola scritta in chiaro in cui ha prestato servizio. Dopodiché ci sarà un'altra tabella in cui andranno inseriti gli anni di retroattività giuridica coperti da effettivo servizio ma nel ruolo di appartenenza. Dunque è l'esempio che capita a qualcuno come può essere l'aver avuto giuridicamente il ruolo mentre si sta prestando una supplenza. Allora mentre si sta prestando una supplenza si inserisce in questo rigo l'anno scolastico dalla AL e la scuola in cui si prestava la supplenza e che è intervenuto in quell'anno la retroattività giuridica per l'inserimento di ruolo. Queste due tabelle sommate fra loro vanno gli anni complessivi vanno inserite in questo spazio mentre gli anni per il servizio di ruolo prestato successivamente alla nomine ruolo va inserito in questo spazio e quelli diciamo di retroattività giuridica ricoperti da effettivo servizio in questo spazio. La somma di questi anni va inserita qui e nella casella 1 del modulo della domanda di mobilità. Poi ci sono altre due tabelle da riempire, eventualmente ci fosse il bisogno di farlo, il numero di anni prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole ubicate in piccole isole. Questo anche se si è già inserito nella tabella A l'anno scolastico prestato si riscrive perché è un raddoppio di punteggio. Dunque va riscritta l'anno prestato di ruolo nelle piccole isole, l'anno riscritta in questa tabella qui per garantirsi il doppio del punteggio. O nella stessa maniera gli anni di ruolo passati in plessi o scuole situati in paesi in via di sviluppo vanno riscritte qui. Tutti questi servizi vanno inseriti proprio nella casella 1 del modulo della domanda insieme alle tabelle precedenti. Dunque sono 1, 2, 3, 4 tabelle tutte nella classe, la somma degli anni va inserita nella casella 1 del modulo di domanda. Nella casella 2 del modulo di domanda invece vanno inseriti gli anni con decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, per esempio un docente che mentre è disoccupato riceve una nomina in ruolo, quell'anno giuridica, una nomina in ruolo giuridica, quell'anno scolastico vale ai fini del punteggio e dunque va dichiarato l'anno scolastico della nomina giuridica non ricoperta da effettivo servizio e se si è avuta assegnata una scuola va indicata pure la scuola di riferimento e da quando si è avuta la nomina giuridica a quando. La stessa cosa per la tabella B è il servizio prestato nel ruolo personale educativo oppure nel ruolo dell'infanzia per il docente che attualmente è titolare nella scuola primaria, deve inserire gli anni svolti eventualmente come personale educativo o come insegnante della scuola dell'infanzia. Si scrive qui questi anni, il numero complessivo degli anni per stati come personale educativo oppure come insegnante dell'infanzia o per retroattività giuridica non coperta da effettivo servizio va inserito qui e il tutto va riportato nella casella 2 della domanda. Il punto 3A invece è riferito al preruolo, qua vanno inseriti tutti i servizi di preruolo effettivamente svolti prima di entrare nel ruolo. Inoltre va segnalato se è stato svolto il servizio militare, però che vale punteggio solo se questo servizio è prestato in continuità di nomina. Poi il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, cioè della scuola primaria e il servizio per ruolo fatto nelle scuole ubicate in piccole isole. Questi punti vanno tutti sommati fra loro e inseriti il numero di anni complessivo in questo spazio e poi inseriti nella casella numero 3 della domanda di trasferimento. Poi c'è il punto 4. Il punto 4 sarebbero i servizi di montagna svolte nelle scuole di montagna che valgono doppi, che sono qua per quelli di ruolo, dunque quelli già magari eventualmente indicati nella prima tabella vanno riportati nuovamente in questa tabella perché così c'è un raddoppio del punteggio. In quest'altra tabella invece sempre i servizi di montagna ma prestati in situazione di precariato, cioè di preruolo, vanno inseriti qui e il numero degli anni del preruolo va inserito in questo spazio, il numero degli anni invece di ruolo prestati nelle scuole ubicate in montagna va inserito in questo spazio. La somma di questi due va inserita nella casella numero 4 della domanda per la scuola primaria. Dopodiché abbiamo il punto 5. Il servizio di ruolo comunque prestato successivo alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza per le scuole speciali o per l'indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno, cioè il servizio del sostegno perché anche in questo caso il servizio sul sostegno fa raddoppiare il posto solo per i posti di sostegno. Dunque inserite se volete un posto di sostegno anche gli anni di sostegno che avete svolto sia in ruolo e inserite gli anni di ruolo qui sia nel preruolo in quest'altra tabella inserite gli anni di preruolo qui in questa tabella e il tutto va inserito nella casella 5 del modulo di domanda di trasferimento oppure di passaggio per chi chiede il passaggio da posto comune a posti di sostegno. Poi c'è il punto 6 che è un punto diciamo relativo non ce l'hanno in pochi, di aver prestato servizio di ruolo a partito dal 92-93 e fino a solo al 97-98 come specialista per la lingua straniera. Ecco questo va riportato in questa tabella qui, il numero degli anni qui e il tutto andrebbe riportato nella casella numero 7 ma ripetiamo è una cosa rara avere questo punteggio. Poi nel 6b è il servizio di ruolo effettivamente prestato al di fuori del plesso o circolo di titolarità e per quanto riguarda sempre dagli anni del 92-93 fino al 97-98 per gli specialisti della lingua straniera. Anche qui si mette il numero di anni, si inseriscono gli anni svolti fuori dal plesso di titolarità come specialista della lingua inglese e si inserisce nella casella, anche qui nella casella 7 si sommano questo più questo e si va nella casella 7. Infine l'ultima tabella di aver prestato servizio come pre-ruolo nelle scuole statali di ogni ordine e grado dei paesi appartenenti all'Unione Europea. Si inseriscono qui questi servizi eventualmente svolti ma anche qui è molto raro e alla fine si allega questo documento alla domanda di mobilità. Speriamo che questo video possa essere stato utile, ne faremo altri al riguardo. Seguiteci ancora, seguite il nostro sito www.tecnicadellascuola.it e seguite anche il nostro spazio YouTube dove faremo altri video per compilare gli allegati delle domande. Arrivederci!